buongiorno benvenuti a questo mio talk io sono arturo losi dell'università di cassine del lazio meridionale membro del consorzio in siel e in questo talk nell'ambito del convegno energia italia 20 22 transizione ecologica in dipendenza energetica io dirò qualcosa sulle fonti rinnovabili e l'elettrificazione come driver della transizione energetica ponendo poi particolare attenzione alla distribuzione anello finale della filiera elettrica e il ruolo della domanda nel condurre nel poter condurre al meglio i sistemi di distribuzione cercherò di essere generale qualche dettaglio tecnico sarà necessario cercherò di rimanere ampio nei nella visione sufficientemente dettagliato perché sia siano intese le questioni che si stanno affrontando e si affronteranno allora parlerò in particolare di fonti rinnovabili elettricità della questione tecnica energia e potenza passando poi alla come dire a un focus sulla distribuzione dell'elettricità e infine vedere come il lato della domanda concorrerà al funzionamento di tutta la filiera elettrica in particolare della distribuzione allora è ben noto che le attività energetiche hanno grande impatto sulle questioni ambientali e climatiche per contenere questo impatto per decarbonizzare come si dice il settore energetico molto affidamento si fa alle fonti rinnovabili anche se poi le fonti rinnovabili non sono l'unico strumento per decarbonizzare il settore dell'energia faccio in particolare riferimento all'energia nucleare ma con molta molta attenzione si pone alle fonti rinnovabili fonti rinnovabili qualunque sia poi la forma vettore con cui questa energia arriva ad essere utilizzata ma la massima attenzione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili è posta sull'elettrificazione dei consumi finali si viene infatti che è dimostrato che solamente con una maggiore elettrificazione dei consumi finali in particolare per la mobilità e per il raffescamento il riscaldamento degli ambienti si potrà avere un aumento sempre più deciso dello sfruttamento delle fonti rinnovabili quando si parla di energie rinnovabili e si parla poi di energie rinnovabili ed elettricità bisogna necessariamente fare una distinzione fra energia e potenza in mezzo c'è il fattore tempo diciamo che energia e potenza stanno fra loro come spazio percorso da un'auto sta alla velocità con cui quello spazio viene percorso per intrinseca natura dei sistemi elettrici per le leggi fisiche che ne regolano il funzionamento si deve avere necessariamente istante per istante un equilibrio fra le potenze a quanto viene immesso e fra quanto viene richiesto che poi a sua volta il richiesto è pari a quanto viene prelevato più le inevitabili perdite di potenza in rete l'equilibrio delle potenze è imprescindibile se non c'è equilibrio per le potenze il sistema non funziona è talmente forte questa esigenza che è bene guardarla anche dal punto di vista della distinzione fra bene e servizio il bene è l'energia che si scambia il servizio è quanto serve perché questo scambio possa avere luogo il bene l'energia si misura appunto in kilowattora megawattora quel che sia il servizio in estrema sintesi e semplificando al massimo si misura in potenza kilowatt megawatt che siano ebbene il maggiore sempre maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili pone nell'ottica di questo equilibrio dei grandi significativi problemi di conduzione al sistema elettrico in generale perché perché la non programmabilità della seconda parte delle fonti rinnovabili si pensi al sole al vento la loro eh intermittenza l'incertezza con cui si può prevedere eh oggi per il futuro eh la quantità di energie effettivamente ottenibile pongono rispetto al problema ripeto ancora una volta dell'equilibrio fra le potenze dei problemi davvero complessi tanto complessi che il servizio per far giungere a chi la chiede l'energia elettrica è molto costoso tutto questo eh impatta su tutto il sistema eh su tutta la filiera dalla trasmissione alla distribuzione focalizziamoci sulla distribuzione la distribuzione che fino a qualche anno fa ultimo anello della filiera elettrica era vista come semplice da condurre questa semplicità comincia a venire meno perché è perché con l'aumento della generazione distribuita per generazione distribuita si intende la generazione tipicamente da fonte rinnovabile che poi è connessa eh tipicamente alle reti di distribuzione da un lato e con un aumento della richiesta di elettricità aumento che sarà sempre più spinto visto che si vogliono sfruttare dei conti rinnovabili come ho detto prima sempre di più ci saranno problemi di rete congestioni significa correnti molto grandi qualità significa tensioni non buone tensioni eh fuori dagli intervalli di buon funzionamento come fare per affrontare queste questioni che sempre di più eh graveranno sulle reti di distribuzione o si continua come prima e quindi affronta ehm investendo di più tipicamente sulla rete sull'infrastruttura fisica così come è così come la conosciamo oppure a questo intervento a questo eh mezzo per far fronte alle crescenti questioni che si pongono alle reti di distribuzione si possono affiancare altri ambiti applicativi in particolare quelli quelli della della information technology e in communication technology per ottenere quelle che con una abusatissima parola si chiamano smart grid le smart grid questa faccio una nota questa aggettivazione delle griglie delle grid delle reti come smart non deve trarre in inganno non è che finora le reti elettriche fossero stupide le reti di trasmissione italiana ed europee sono molto smart la questione adesso che si pone è eh far scendere se così si può dire facendo riferimento a livelli di tensione questa smartness sempre più giù in tensione e quindi sempre di più verso le reti di distribuzione questo paradigma vedrà il coinvolgimento della domanda cosa significa significa che la domanda il lato domanda che finora è stato insensibile alla questione della necessità di tenere l'equilibrio fra le potenze sarà sempre più coinvolto e sarà sempre più coinvolto in un'ottica di mercato dovrà infatti ci si aspetta infatti che la domanda concorra come dicevo all'equilibrio delle potenze mettendo in gioco la sua flessibilità la flessibilità è la capacità volontà di modificare lo scambio di elettricità con la rete rispetto al solito potendo potendo così fornire servizi esattamente nell'ottica detta prima servizi questa volta fornita e forniti dalla domanda alle reti sempre nell'ottica del concorso alla tenuta dell'equilibrio fra le potenze e ancora una volta in un'ottica di mercato si prevede cioè che questa fornitura di servizi da parte della domanda alle reti e in particolare alla distribuzione avvenga in un in un'ottica di mercato e cioè chi la fornisce la flessibilità venga compensato per questa fornitura ci sono già alcune realizzazioni nella distribuzione in giro per il mondo in italia la flessibilità è stata oggetto di un progetto pilota da parte della trasmissione grazie a una deliberazione della nostra autorità area del 2017 adesso con due documenti del 2019 uno del 2021 un altro si fa si fa partire la l'esperienza di progetti pilota di flessibilità che fornisce servizi anche ai sistemi di distribuzione riassumendo per sfruttare al meglio le fonti rinnovabili ci sarà un aumento della richiesta di elettricità grazie alla flessibilità il lato della domanda offrirà servizi a sistema elettrico in particolare alla distribuzione con questo ho finito vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon lavoro